Musica Buonasera a tutti, sono Davide Bruvelli del ristorante Il Sole di Ranco e questa sera l'argomento sarà il caffè quindi quello che vi voglio presentare come prima ricetta saranno dei tortelli di zucca con una pasta profondata al caffè una salsina al grana, parmigiano e delle patate croccanti sopra Faccio un impasto per fare 3 uova quindi ho mezzo chilo di farina 00 tra ogni 100 grammi di farina un uomo quindi mettiamo 5 uova 2 uova messe nella farina le altre 3 le ho un po' qua andiamo a mettere il caffè in mezzo buteino per 100 grammi di farina Aggiungiamo un gol di olio avete visto che non ho messo sale intanto il sale è giusto non c'abbiamo merito quindi non serve questa rata facendolo così avrete la possibilità di congelarla non posso andare a tirarla adesso devo sicuramente farlo riposare il finale sarebbe farlo riposare una volta un poccino di olio tutto a freddo una grattatina di sale tutto con la carta argentata in forno 160 almeno per 40 minuti questo è il risultato poi aggiungiamo la ricotta poi aggiungiamo la ricotta quindi parmigiano in modo caldo questa è la salsina al parmigiano che avete nel piatto abbiamo tagliato la tutta finissima con una mandolina e poi abbiamo messo questo disidratatore e poi abbiamo messo questo disidratatore